We are unstoppable, another world is possible, we are unstoppable, another world is possible, we are power, power, power! Non change, non change, non change Ciao ragazzi, io sono meno ragazzo di voi Vengo dalla Val di Susa Solo per far viaggiare più veloci le merci e mentre stiamo assistendo all'ablocco della frontiera al blocco dei migranti dove dalle Alpi cercano di passare con la neve e ci sono tutte le volte morte noi diamo assistenza di vestiario, di mangiare, di riscaldare mentre l'attenzione è tutta dedicata a questi migranti che sono gli ultimi, gli ultimi e i più oppressi di tutti